Avete fatto qualcosa di ottimo per il porto? Almeno questa città sta rinascita. Ci voglio provare a dare più in fondo. Inizia in pulmino il tour metropolitano di Francesco Russo per analizzare i diversi punti cardine della città del futuro. Tutto pronto? E si parte qui per il tour metropolitano. Andiamo. Prima fermata del tour di Francesco Russo, primo tema, mercato coperto. A chi dice che la città metropolitana non serve nulla mostro un luogo che i triestini conoscono benissimo in centro della nostra città, poco valorizzato e che potrebbe diventare davvero, come è stato ad esempio al mercato centrale di Firenze, un luogo in cui mettere in mostra le eccellenze triestine. I nostri prodotti tipici, il carso, le migliori rappresentazioni del commercio triestino. Ci spostiamo quindi in Porto Vecchio. Questo è l'ingresso nell'antico scalo asburgico. Senatore Russo, il suo nome è associato a quell'emendamento che ha portato al processo di sdemanializzazione. Ora, come velocizzare i tempi per vedere, diciamo così, la fase 2? Sono passati 15 mesi, si è fatto un pezzettino di strada, adesso bisogna davvero accelerare. Credo che la risposta migliore possa essere quella suggerita da Raffaele Cantone. Costruire immediatamente una società pubblica snella, snellissima, con dei manager molto capaci, che prendono in mano la situazione e si colleghino con le realtà internazionali che possono favorire l'arrivo delle risorse necessarie per cambiare quest'area. Porto Vecchio significa però anche mare, un mare che i cittadini, i triestini, non hanno mai potuto godere in nessun modo. Come si fa a valorizzarlo senza più fare porto? Ma davvero il mio sogno è riportare i triestini o portarli per la prima volta. Quanti hanno visto queste banchine straordinarie, hanno goduto questa vista di Trieste da una prospettiva inedita, una nuova economia legata agli investimenti che Fincantieri vorrebbe fare per portare qui i megayot. Significa sognare di portare qui le grandi navi bianche che Venezia non può più ospitare. Ultima tappa in direzione del gasometro per ecco come accade alle volte facendo questo tour alle prese, senatore anche con un imprevisto, le buche. Ebbè ma fondi europei, fondi europei, fondi europei. La città metropolitana può prendere soldi anche per risolvere questi problemi. L'ex gasometro perché? Ma perché è il luogo perfetto per immaginare un grande spazio aggregativo per i giovani. Un altro luogo che in tante parti d'Europa con soldi e finanziamenti europei è diventato qualcosa di straordinario, è stato recuperato a un utilizzo per i ragazzi che oggi hanno davvero bisogno di uno spazio. Grazie. Grazie.